Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrer, o se preferite melodi, siamo tornati in compagnia di Anisha e di Ugo e questo capitolo si chiama Casa Nostra Carino che le fa vedere, un po' anche come in The Walking Dead se non che io non riesco a immaginare come questo luogo possa minimamente essere di conforto per loro comunque diroccato, adesso c'è il sole d'accordo ma vogliono veramente vivere qua sono dubbiosa, quelle probabilmente li potremmo raccogliere dopo perché sono chiaramente dei fiorellini messi là per essere raccolti faccio un giretto veloce, chiaramente il luogo è abbandonato da tanto, tanto, tanto tempo già di base mi domando come abbiano trovato del legno asciutto però va bene, e niente, non possiamo esplorare, giusto? questo è un tavolo da lavoro, attrezzi, vediamo se posso fare qualcosa, sì potrei fare l'attrezzatura potrei sforzare abbastanza attrezzi per mettere e migliorare l'equipaggiamento ovunque voglia mi è una cazzata, cioè questa cosa è proprio inutile per quanto mi riguarda perché non penso mi mancheranno mai gli attrezzi, cioè già adesso ne ho quattro e ne uso uno per volta, quindi già di base ho uno, due, tre, quattro, ho abbastanza attrezzi per fare quasi tutti i potenziamenti se si scrutono questi quindi, meh, 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 insomma, aspettiamo, aspettiamo mi piace tantissimo comunque la filosofia con cui questa ragazza comunque nobile abbia dormito per terra e si riesca a resistere, a reggere botta senza un crollo emotivo, è veramente un toro wow ok che cosa ha fatto Lucas, dai vediamo un po' ok 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 Pure questo Lucas Super maturo Poi per carità Comunque a quei tempi È evidente che Non è la stessa cosa Della nostra età È ovvio Ovviamente loro Sono molto più maturi Rispetto a noi Giovani d'oggi Però insomma È bellissima sta cosa Cioè Lucas È un signorino incredibile Piccolino piccoletto Ma lì a fare le sue cosette Senza perdersi d'animo Catturato dall'inquisizione Per ora Sì però Però la prossima volta Non mettere le cose Nei barattoli Dello stesso colore Perché ti confondi Che miseria Sono spaventata C'è arrivato malissimo C'è arrivato malissimo Che avete visto Ho craftato qualcosina Così mi sono pulita L'inventario Tanto ovviamente Sono dei materiali Per buona parte Che non ti servono Per potenziare L'etupaggiamento Devo seguirlo per forza Non posso andare a prendere Fiorellini È pure rotto Così in inquisizione E ci sento Dai E infatti Lei probabilmente È l'unica Un attimo Più Fuori dal contesto Di È mio fratello Fuori dal contesto Di Sono un'alchimista Apprendista Di Laurentius Devo portare avanti Il suo lavoro E dice Ragazzi ma che dovete fare Ecco Ecco L'unica Sì, che non voglio essere capito. Sì, sei bene e tu sei bene. Quindi... Hai dovuto trovare Arthur? Se posso aiutare... È il mio problema. Hai ascoltato quello che ho ho detto. Esche inquisition d'occhio li ho a la bastione. Io ho saputo dove andare. Sì, lo trovo. Amicia, guarda! Sì, con Hugo... Non sembra facile, ma credo me... È vale. Sì... Ma è molto maschilista questa cosa. Cioè, comunque... Alla fine... Cioè, che comunque ha detto la stessa cosa in inglese. Anche se... Anche se... Se li odi, alla fine... Finiscono sempre con salvarti. I fratelli. Perché? Che vuol dire? Vabbè. Esamina, è il simbolo nella sala principale. Comunque troppa luce, troppa pace... Già percepisco... Il dramma che sta per consumarsi. Sì. Guarda, sono gli stessi simboli. Sì. Sì. Un alchemista di armi, magari? Hai visto il cibo? Il cibo? Vieni, qua qui! Ugo, nella sua purezza... Ha un occhio. Che schifo. No, no. Non toccare. Che schifo. Le loro spirotrombe sono orribili. Che schifo. Scusate. 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 No... Nooo. 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 Nooo, mi vorrò del mago all'istantaneo. Scusate. Scusate. Siamo trovata un modo da curarti. E c'è Lucas e Meli ora, sai? Diferenza mia Eh sì 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 Quindi non ho Hugo con me comunque Vabbè che Gameplay non serve comunque Eh esatto Lo sapevo che c'era fiorellina infatti da raccogliere Aiai Aiai Cosa hai trovato? Qui Sì 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 Attraverso il processo alchemico E portatore della promessa Della grande opera finale Piccolo lui Mamma mia Facciamo questo potenziamento Che comunque è sicuramente utile La tasca con 22 materiali Sicuramente è utile Io direi l'attrezzatura Veramente di ignorarla Perché mi sembra inutile E di focalizzarmi su altro Assolutamente Questo per poco non posso persino farlo Ok, vabbè Possiamo andare Che senso Forse come immagine Non come capitolo di passaggio Questo ok Non rose in giro Vere rose I sotterranei Non penso All'ombra delle fortificazioni Quindi con la macula Ci sono vari step E ogni step Il portatore rischia di morire Ma quindi potrebbe non morire? Cioè potrebbe esistere il portatore perfetto? Cioè arrivi a un punto che Questo male Cosa fa? Mi intriga un sacco questa cosa Mi intriga un sacco Vabbè Melly è il fan power Del gioco Praticamente Ok Ha ovviamente ragione Allora No 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 Aspetta Melly Io devo fare il mio giro Che devo raccogliere le cose Eh ti vedi Tipo Sì Melly Melly Ti capisco Cioè in questo caso Amici ha proprio fatto Una figura di merda Se l'è messa da sola Cioè si è messa da sola E per me vedi Mi dimostra Il bico è qui Esatto E dove c'è il bico Tu anche potrai L'inquisizione Non ti sei il smart Non L'inquisizione Cosa 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 Quindi questa è la punizione per la scuola? La morte? Non voglio trovare Arthur con questo tipo di spuola Come, vai! Come, sei. Then I'll go take care of Arthur. Alright, so? Where will I find the University? It's the big building at the other end. You can't miss it. Do you think we'll see each other again? I hope so. You owe me. Shit! That means you're not allowed to die. I'll do my best. There you go. Ah, mi sta lasciando Cavolo, se ne va Ho l'ansia per lei C'ho veramente l'ansia per lei Questa si è infilata Mamma mia, pazza Pazzissima Pazzarella Qui è chiuso Quindi Pappero, papapà Non c'è niente No, era un riflesso Wow Come, caspita, ci devi arrivare lì Chiaramente fuoco Raggiungi l'università È più facile a dirsi che a farsi Un po' di più Un po' di più Un po' di più Ma Ma Ok Le imitazioni sono troppo fighe C'è anche proprio questi ambienti urbani Per quanto Streaming city è ridotti a corridoio Ma in una maniera comunque credibile Non è A caso, ecco Un po' con muri invisibili Cose brutte Quelli erano un topi? Quelli erano anche un topo Perchè siamo delicatissimi Vorrei capire comunque se ipoteticamente io consumo tutte le risorse a caso Come dovrei fare Come dovrei fare No, 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 fammi capire, no Cioè devo andare E vabbè neanche il tempo va bene ahhh vabbè ma non l'avevo visto ok 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 c'è il legnetto quindi lo posso distrarre è più facile non devo seguirlo no così nulla nulla se solo ho acceso una lanterna non ti preoccupare dai nulla non c'è niente dai tranquilli esatto vai guarda dei topini impazziti isterici allora no però devo comunque accenderla al bracere per cui devo aspettare esatto devo aspettare che questo faccia così poi mi metto qua poi potrei lanciargli il vaso ma è stato fatto troppo tardi quindi niente mi fa solo questo giro il mio dubbio è io da che lato devo andare di là o di qua penso di là all'intuito di qua esatto 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 dai dai mullala mullala salta 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 ok ce l'ho fatta a posto poi ipoteticamente lo si può pure oh oh calma ho sbagliato tassi ipoteticamente lo si può pure uccidere però ok Lui potenzialmente lo potremmo ammazzare Con un bel devorantis Sì vabbè non puoi mancarlo così Ok Però questi sono ancora Ah ecco perfetti Non era assolutamente necessario ucciderlo Mi sono assolutamente consapevole Sono stata una bruttissima persona Chissà dove è andato quello Sarà andato molto più avanti probabilmente Io ero molto più in ansia Perché pensavo che facesse Avanti e indietro Mentre invece pare di no Pare che si sia proprio spostato E che non torni indietro Sì vabbè ma Che cazzo Come al solito ho questo problema Che le cose me le immagino Molto più complicate di quanto siano Vabbè avete la toccina Non c'è bisogno di agitarsi così Allora io qua scendo perché vedo che ci sono cose belle E ne approfitto Sempre Per fare i miei crafting Simpatici Sapete che non ricordo se c'è una modalità difficile di questo gioco Cioè se c'è una selezione della difficoltà Ho un dubbio Ho un dubbio Perché mi domandavo Magari se c'è una selezione della difficoltà Puoi ridurre il quantitativo di risorse che trovi E qua accendo la torcia chiaramente Però penso che ti quasi avanzi Non mi è molto chiara la direzione da seguire Ma che pro dove infilarmi là dentro Non capisco Perché mi dovrei infugnare lì? Non so Ok Prendo il rametto Non posso raccogliere Non riesco a capire lo scopo del Forse c'è qualcosa nascosto Posso provare ma secondo me finisce malissimo No no Lasciandomi Andate a cagare eh Andate proprio a cagare Ci sarà qualcosa Non lo so Ovviamente la cocco non frega assolutamente nulla Della piaga Può succederla? No Cazzo 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 Le paura Sì ma l'inquadratura Gioco eh Ok Ho sbagliato Munizione Per questo non me lo dava giallo Cavolo 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 Where's the hangman? Oh no Ah That was No Sono soddisfazioni Penso comunque che rimangano Impegnati Una volta che li ha Non ci devo entrare in mezzo però Scusi posso Grazie Mi prendo il drop La lascio Con i suoi nuovi amici Peccato Che mi sono persa Un sacco di collezionabili Sono una cretina E vabbè Bello Tutto questo sangue Che cosa brutta Un sacco di collezionabili infatti siete peggio però in parte hanno ragione però sei comunque un pezzo di merda distrarli significa lanciare i cadaveri per caso? no non ci arrivo però quello si, quello si, quello si no mio dio è un topo impazzito qua mio dio no no sta dai buoni, sta dai buoni ok come si passa? ok ah c'è una guardia salva comunque cazzo sbagliato tasto, continua a sbagliare tasto distinto uso il cerchio per la schivata per abbassarmi ok vabbè le morti stupide comunque veramente e dai ma che cazzo cioè non è neanche la possibilità di di sfuggire una volta che vabbè eh però così no così mi vede e vabbè così mi vede si ma non è giusto che sia spenta me la potevo portare in giro e avevo risolto tutti i miei problemi per sempre evidentemente una cosa che mi sta piacendo è che ci sono più maniere comunque per risolvere i problemi ce la puoi fare puoi fartela stelte pura brava bambina oppure fare il mezzo massacro ok allora qua mi prendo il... qua non posso entrare vero no? quindi qua mi prendo il rametto che sbrilluccica e lo posso accendere ma non so più a che pro che potrei comunque fare in giro quindi è stupido questa cosa che ho fatto ve l'ha fatto una cazzata però facciamolo lo stesso no? no? e allora che caspita devo fare gioco? a questo punto sono confusa devo passare di la? dove caspita devo andare? sono... perplessa io posso abbassarmi con... nel momento in cui ce l'ho accesa faccio così posso abbassarmi? si ok 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 c'è è carino pure vedere che comunque anche l'hooooh hello sai che comunque anche chi ci sta lavorando diciamo è un po' sofferente qui come caspita ci arrivo dai se c'è lo scrigno bello cos'è stato? sembrava oh io lo sto facendo molto ignorante questa cosa no ok torno a pregare e... grazie per i sassi qui qual'è il mio premio per avere ucciso un uomo semi innocente io qua non posso... non posso fare una mazza perché... qua ci sono i ratti e non posso tornare indietro qua ci sono i ratti qua ci sono i ratti e quindi non posso passare posso passare ma da quel lato e c'è lo scrigno qui non posso passare magari c'è più avanti un rametto vediamo se c'è un rametto vediamo se c'è un rametto ma non penso e no e no cioè veramente devo... dovrei secondo loro utilizzare la luce di lux lucis lì la luminosa ok chi se ne frega cioè va bene facciamolo sono abbastanza convinta che non si faccia così però eh qual'è? e si scoprì che il rametto era qui e non l'avevo visto no non c'è io non lo vedo mi sento meno in colpa quantomeno però speravo ci fosse un collezionabile sinceramente dentro lo scrigno non nel meno materiali meno materiali di quanti ne usati è possibile che non abbia vomitato pure l'anima in una situazione del genere me lo devi spiegare comunque c'è cazzuta quanto vuoi ma non penso che abitualmente tuo padre ti portava a passeggiare sui cadaveri infetti masticati marci purulenti effettivamente abbiamo trottato eh il cimitero è sulla via veramente non voglio passare lì amicia dopo tutto questo casino tu sei già dentro un cimitero ma ti pare che il problema è il cimitero dove per fortuna i morti sono morti per davvero dai forse meno l'inquisizio se solo Melly fosse qui vieni bisogna sbagliare questo mannaggia a me l'inquisizio dovrebbe mettere qui sembra che si pivota carina questa cosa questa è l per il mio senso il grande inquisizio non fa cose da parte chico può anche aprire la strada ai ratti o bloccarli non so che cosa si intende aprire la strada ah per magari per far salire le persone ok ok si 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 Giorgio Giorgio lasciami stare ok non posso fare niente perché sono una cretina che ha consumato ovviamente i materiali per fare l'idiota però meritava il tentativo cosa no cosa chi che Amicia che succede intendi ucciderlo malissimo devo fare quelle cose eh poi lo so giro il bravo di luce ops io li lascio la perché non vorrei che girandoglielo sopra gli faccio scappare forse forse era una cosa opzionale da fare ecco qua non penso ci sia alcun premio probabilmente era opzionale questo è abbastanza facile guardate calmo i topini eh guardali arrabbiatissimi let's get out of here addirittura filmato dai grande inquisitore che passa no si ma bruciateli gli episanguis ah let's see quello è quello cos'è chiaramente è cattivissimo lui lo è perfetto se 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 si se se si Non ci siamo interessati. Ma... ... ma... ... ma non ci permettezci i nostri uniti usare? ...E'... ...E' troppo precioso! ...E' ogni cristal epi sanguiso deve essere mantenuto per il nostro progetto. ... in particolare come... ... in questa forma. ...E' stata la source di alcuni... ... come potremmo dire... ...regrittibili accidenti. ...Delivele al bastion. ...E' sufficiente per oggi. ... ...regrittibili accidenti. ...Imagine che ti spilisci qualcosa sui piedi. ... Hai dovuto fare il tuo patrullo sul tuo cuore. ... Oh! Epi sanguis? C'è quello? Ho bisogno di vedere questo. Ah! Tecrona... ... vieni, è solo un cimetria. ... Qui non c'è nulla? Ah! ... Posso un po' rubare, fare lutto dei corpi, no? ... Strano. Sì, ma signori, che situazione assurda. ... 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 Do ... Come sempre vi ricordo che se siete interessati ad acquisti a tema nerd, sia di prodotti grafiche, di prodotti orientali che occidentali, c'è il sito pumpkin.com, è molto interessante, che vende anche a bei prezzi delle t-shirt, felpe, poster, scarpe, calze, magliette per bambini, cover per cellulari, pacchetti di caramelle. E qualora trovate qualcosa che vi interessa, se inserite al momento del completamento dell'acquisto del codice FireRPH, come il mio nickname, il nome del mio canale, otterrete il 15% di sconto sul vostro primo acquisto, sempre gradito. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!